Domenica 30 dicembre in serata, nella distrazione per le feste dell'inizio del nuovo anno, è passato in sordina un episodio che deve essere approfondito. L'incendio in un'area diacente, l'isola ecologica e gli impianti di depurazione. A sottolineare quanto è accaduto il capogruppo di opposizione Alessandro Lo Schiavo, in un'interrogazione firmata da tutti i consiglieri di minoranza e pubblicata sul profilo Facebook della pagina Siamo Castellabate. Grazie al pronto intervento dei volontari della protezione civile è stato domato in breve tempo. Nonostante ciò, tanti cittadini che abitano in quella zona hanno segnalato forti odori nauseabondi, non ascrivibili ad una normale puzza di fumo. In più ci sono da accertare le cause dell'incendio. Nel caso in cui venissero confermate le indiscrezioni circa l'origine dolosa dell'evento, allora saremo dinnanzi ad un'altra mancanza di controllo e sorveglianza di un'area così sensibile a livello ambientale e sanitario. Un'area dove gli escavatori scompaiono nel nulla, ricorderete la vicenda di qualche anno fa, evidenzia lo schiavo, e dove nascono incendi in maniera incontrollata. Per queste ragioni l'interrogazione di oggi mira conoscere il numero di telecamere di sorveglianza nella zona e le azioni dell'amministrazione affinché tale area sia maggiormente controllata. Inoltre, a tutela della salute di tutti i cittadini, abbiamo richiesto ufficialmente di sapere se l'incendio ha interessato anche materiali inquinanti abbandonati nelle adiacenze dell'isola ecologica. Perciò, concludono, aspettiamo in breve tempo una relazione dettagliata e un'analisi del suolo al fine di rassicurare in maniera scientifica e oggettiva tutti gli abitanti di Castellabate.